ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo episodio di The Walking Dead ragazzi ci siamo il bambino di Rebecca sta per nascere e l'unica cosa che dobbiamo fare ora è cercare di respingere un'orda di zombie che ci sta attaccando sembra che l'unico modo sia tirare giù praticamente questo ecco però come ci arrivo lassù tirami su ecco dobbiamo tirare giù questo gancio così post così tutto tutta l'impalcatura praticamente cade crolla vai forza dai dai che ci siamo direi veramente un lavoro di fino è povera Sara mi spiace per Sara è rimasta lì sotto cosa che è è nato morto ha fatto come Baloo anche Baloo ha fatto così quando è nato sembrava fosse morto invece poi ha fatto ha fatto un piccolo respiro e un giorno vi racconterò come è nato Baloo sapete no che è il figlio della Lily se non lo sapevate ora lo sapete se il bambino è vivo ma almeno dai non abbiamo fatto tutto questo per niente assomiglia a Carver direi che è tipo l'ultima cosa che devi dire sì 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 sembra assurdo che una nuova vita possa nascere in uno scenario del genere veramente non c'è sì 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 Gli farà bene quel bambino Sì perché i bimbi appena nati hanno un odore particolare Cioè i bimbi in generale hanno un odore particolare Che cosa c'è? Cosa vuol dire? Perché? Dai forza Clem rimarrà viva Sopravviverà Dai forza Sì un pochino più positiva Ho capito che tutto è andato male però No questo sicuramente no Questo è vero Alima Ciao Jane Grazie di tutto A volte dimentico che Clem è ancora una bambina Andata Eh Eeeh Jane sene andata Sì, infatti adesso dai smettiamola Sì, 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 tutto il posto Eccolo Cosa? Cosa? Sì, ma lascia riposare un secondo Rebecca, no, questo è vero No, no, questo è vero No, deve riposarsi, sì Ah, però ha iniziato a nevicare Probabilmente ha ragione Kenny che fa troppo freddo, però... Come possiamo fare, Kenny? Non guardarmi male Rebecca ha bisogno di riposare, cioè morirà se la portiamo via Non puoi partorire e poi rimettersi in cammino Che situazione del manga, veramente Ovviamente Più andiamo avanti, più peggiorano le cose Ok, ora si sono messi in cammino Fa molto freddo Speriamo che almeno il bambino sia coperto abbastanza Mamma mia, quel segno di quel pugno dalla faccia non l'è più andato via Beh, Luke, sì, però smetti di guardare male Kenny per qualsiasi cosa Oh, non li sopporto quei due quando li iniziano a besticciare Li manderà a quel paese tutti e due se fossi lì Basta litigare! Sì, sì, ma basta! Avete rotto le palle sempre a litigare Oddio, quella non ce la fa più Luke, puoi non metterti in mezzo a qualsiasi cosa? Oh, Arvo! Sì, e gli abbiamo rubato la roba No, 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 è una trappola, è una trappola Non mi fido Sì No, non mi fido E? Sì 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 Non mi fido Ecco, il sacco Allora, un sacco Sì E? Sì 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 Sono russi Quindi? Ma non abbiamo niente Che dite? Ma non ma che cosa? Ah le armi vogliono No Si Oh mio dio ragazzi è un bruttissimo presentimento Oddio Oddio è morta Rebecca è morta No 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 Clem Prendi il bambino Io non voglio sapere cos'è successo Chi è morto non lo voglio sapere Beh sicuramente qualcuno ci ha lasciato le penne No Che è? Ok è viva No ragazzi Me l'ha Me l'ha preso male No Mike Luke è vivo? Il tizio russo pure Male Però è stato colpito Ok Kenny è vivo Oddio il bambino Dove è Bonnie? Dove cavolo è Bonnie? Prendo il bambino secondo te cosa sto facendo? Eh Ho visto che non l'avevi visto Grazie Dove diavolo è Bonnie? Kenia è sempre politico eh Mamma mia Mamma mia Sì ok 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 Ma meno male comunque che Sara è già morta perché non sarebbe sopravvissuta a questo Oh grande Kenny Beh è meglio se è uscito almeno non fa infezione Cioè la fa comunque infezione Però il fatto che faccia molto freddo è una cosa positiva Diminuisce il sanguinamento penso Diminuisce il sanguinamento penso Oddio Kenny Peristami 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 Ma è morta Mi sa che è la sua sorella Mi sa che è la sua sorella Jane Eddio, Jane Ok, il bambino è salvo Dove cavolo era Bonnie? È uscita fuori adesso da un fungo Non si sa dov'era Ottimo lavoro, Kenny Grazie per essere tornata Ho capito, ci stava sparando Se lo meritava Se lo meritava E' Arvo? Sono felice che Jane sia tornata Sapete, quando ci sono delle scelte Di questo tipo Del tipo Parti subito Oppure Aspetta qui due giorni Vuol dire sempre che muore qualcuno Perché in base a quello Morirà o meno una persona Anzi Sarebbe morta comunque Se ci fossimo incamminati subito Sarebbe morta di stanchezza Ecco Nalvin adesso Non è colpa sua Non è colpa sua Kenny per favore Oh un ragazzino Un ragazzino Per questa volta Sono d'accordo con Kenny Sta mentendo Sta mentendo Sì, però non mi fido di Arvo Secondo me Abbiamo appena ucciso Sua sorella Quindi cercherà In tutti i modi Di vendicarsi O di tenderci una trappola Non lo so Ho solo paura Che Andando In casa sua Gli rendiamo Molto più facile Una possibile vendetta Perché è casa sua Quindi sa Dove mettere le mani Però c'è anche Da dire che Fa un freddo boia Non possiamo Continuare a stare Qui fuori Vuoi un biscottino Mi piace veramente tanto Jane Già Sì, sta un po' Uscendo di testa Sto cercando di Assecondarlo Arriviamo Slowpoke Ma sarà questo Rifugio Una trappola O troveremo Un sacco di cibo E sarà la scelta Migliore Della nostra vita Lo scopriremo Nella prossima Puntata Direi che Ogni puntata Ormai stiamo Perdendo Da una A due persone Non so sinceramente Quanti arriveremo A essere Alla fine Ma Veramente Il gruppo Si è dimezzato Siamo rimasti Veramente in pochi E speriamo Di non continuare A perdere Persone del gruppo Spero che l'episodio Vi sia piaciuto Vi ringrazio Per aver guardato E ci rivediamo Al prossimo Ciao